Carlentini, il disagio corre sui social. Un uomo organizza una manifestazione di protesta denunciato per istigazione. Il social network Facebook è diventato una girone infernale in mano a gente che ignora i rapporti umani e i limiti di legge su come esporsi, ma essendo disinvolto e superficiale incorrono in reati come è successo a un uomo di Carlentini che nei giorni scorsi ha postato sul social network Facebook un invito a ribellarsi destinato a tutti i titolari di partita IVA e commercianti che in questo periodo di distanziamento sociale non possono svolgere la loro attività professionale, dando appuntamento con data e ora in una delle principali piazze di quel comune. I carabinieri della stazione di Carlentini hanno seguito con attenzione l'evolversi della vicenda che alla fine si è risolta con un nulla di fatto, nessuno ha aderito all'appello e nemmeno il fomentatore ha dato seguito anche in considerazione che i partecipanti sarebbero in corso nelle violazioni previste dalle norme per il contenimento del coronavirus. Tal genere di iniziative, anche quando si tratta di mere butade, sono comunque molto pericolose poiché rischiano di creare malcontente e possono portare a conseguenze anche peggiori se fanno breccia nel disagio di chi legge. L'uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa per istigazione a disobbedire alle leggi, violazione prevista dall'articolo 415 del Codice Penale in relazione alle norme vigenti in questo periodo per il contenimento della pandemia.